Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, continuiamo sempre la nostra ventura, sempre qui su Clash Royale mi avete dato degli ottimi consigli per utilizzare la macchina volante, visto che l'abbiamo praticamente potenziata ecco perché vi faccio vedere il deck che sto ultimamente utilizzando, porca miseria, la sedia oggi mi dà un po' fastidio allora, mi avete detto di utilizzare soprattutto Pecca, ma Pecca perché non ce l'ho molto potenziato ecco perché ho preferito mettere il gigante che andiamo molto meglio, comunque andiamo avanti sempre con la macchina volante e quindi ci andiamo a fare la sfida della macchina volante, ma 2 vs 2, tra l'altro è anche gratis, chi può dirlo vediamo con chi ci fa giocare e vediamo soprattutto di fare bella figura allora, ci becchiamo il golem e andiamo ok, no torno, ma porca è però così, vabbè, non fa niente vabbè, la macchina volante ce la becchiamo, visto che la stiamo utilizzando e abbiamo anche imparato ad utilizzarla siamo dei campioni a utilizzare la macchina volante vabbè, c'è anche la mongolfiera va bene ammazza quanto tempo per decidere le carte ma che mi frega, dai, tanto comunque dobbiamo vincere allora, ah, c'è anche la strega notturna va bene speriamo più che altro di in attesa dell'avversario mamma mia ragazzi, questi stanno proprio ma state giocando, sì ok o state al bagno tutto questo tempo puoi scegliere una carta vabbè c'è passa tutto il tempo 3, 2, 1 speriamo che stanno giocando perché sinceramente oh, ammazza che non sta giocando il suo ok, partiamo il nostro si chiama S-Y oh, ammazza, abbiamo un deck praticamente è 60 ok eccolo qua vabbè, noi proviamo a difenderci da qua e vediamo se ce la facciamo ok grande fantastico che abbiamo messo tutti quanti la macchina volante nel frattempo il Golem sta facendo il suo viaggetto dall'altra parte nella speranza che riesca ad arrivare fino in fondo il problema è che non abbiamo praticamente niente oh, fantastico adesso praticamente abbiamo messo l'impossibile da qua dovremmo o potremmo farcela attenzione perché ah no, quello era il suo porca paletta niente, niente da fare da qua allora, metto la principessa nella speranza che combini qualcosa anche se mamma mia il problema è che abbiamo avuto praticamente un deck potentissimo eh, lo so non ce la faremo mai praticamente di qua vai ragazzini provate a fare il vostro dovere magari ce la fate magari non ce la fate niente da fare allora la qualcosa l'hanno già buttata giù eh il problema è che abbiamo praticamente cioè un deck potentissimo non sono mai ancora riuscito a caricare niente proprio zero spacchiato ok almeno la vangolfia la l'abbiamo messa eh e vediamo se ce la facciamo di qua il problema è che lui sta continuando ad attaccare dall'altra parte ho messo un pochettino ok quello è partito o almeno una la riusciamo a buttare giù che dite? si penso dovremmo farcela no manco niente manco ce la facciamo vedete era troppo forte il nostro deck così non ce la faremo mai vediamo un po' se almeno una la riusciamo comunque a buttare giù il problema è che sta tornando l'urida schifosa che in pratica ma ammazza tutti e due ce l'hanno sta tornando cioè è fantastica forse però quella potremmo farcela buttarla non lo so no eh non so se ce la facciamo oh intanto guarda qua guarda guarda ok una torre siamo usciti comunque a buttarla se riuscissimo a buttare giù anche quell'altra non sarebbe male ma veramente non sarebbe male ok il problema è che adesso ci distrugge dall'altra parte ma veramente ci distrugge mamma mia la tornata tutti da tutti con la tornata proprio vabbè abbiamo perso una torre siamo usciti comunque a buttarla giù e lo so ma il problema è che ci ha dato praticamente cioè forse non dovevo uscire il gol però purtroppo cioè vabbè prima partita è andata male non fa niente proveremo a farne un'altra non mi piace come stiamo procedendo no la principessa no mi ha rotto le scato ogni volta che metto la principessa perdiamo sempre andiamo con la strega vabbè tanto comunque vale lo stesso golem ok perché basta ultimamente ci va veramente male col golem non so perché anche perché potrebbero essere scelto anche lui ok ci stiamo facendo giocare con molti che so arabi questi mi sa di sì è incredibile se riusciamo a fare tre partite tutte e tre perse e che cavolo allora ma sta già se la ride ok già mu... aia ok 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 non ci abbiamo praticamente nessuno di grosso ve lo voglio dire che meraviglia ok fantastico vai 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 metti da questo davanti se metti se metti il golem la dietro mettiamo la principessa la dietro da qua io nel fattempo miriamo e andiamo vediamo se ce la facciamo ok la mongolfiera è arrivata fin sotto e questo mi fa piacere speriamo che riesce a fare un pochettino più di danno brava mongolfiera ok col golem dall'altra parte siamo andati bene forse ce la facciamo bravo col gigante adesso ci mettiamo bravo meno male ok penso che questa qua la potremmo vincere penso eh penso eh ok che strano come abbiamo perso praticamente due partite così e poi all'improvviso è bastato fare una partita che l'abbiamo vinta ma neanche un minuto vabbè comunque l'importante era portare a casa il risultato quindi almeno una l'abbiamo vinta tra l'altro riusciamo anche ad aprire il baule della corona ok si ok sta di qua già mi stavo impressionando ok non mi preoccupate vediamo che c'è dentro tanto non esce sempre una mazza la casa royale va bene freccia oh veleno fantastico proprio quello che noi utilizziamo va bene ok andiamo avanti boia allora non lo prendo perché ci ha portato bene a non portarlo ok ah guarda qua ci prendiamo la cimitero vai ci becchiamo il gigante ok ho visto che lui ha scelto carte abbastanza basse quindi potremmo giocarci la buona fortuna e grazie allora ok perché l'hai messaggiata adesso porca misera quella può arrivare davanti e non fa una mazza oh ce l'ha dato anche la tornato ok vediamo se riusciamo a buttare giù a questi qua un attimo forse ce la facciamo o no ok ho preferito un pochettino distrarli così almeno riusciamo all'altra parte a fare qualche danno manco per niente proprio zero spacchiato attenzione a questi qua che stanno arrivando ma che palle come di schifo sti cosi ok vediamo se ce la facciamo veleno ok questo è difficile mi vedo un po' in difficoltà qua ok aia dai che ce la facciamo dai non vi distraite dall'altra parte ok aia aspetta aspetta voglio cercare un pochettino di di fregarli il problema è che non ci abbiamo una ma ok andiamo anche col boia di qua ok vediamo un po' se riusciamo a fregarli dai 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 cimitero dai cimitero e dai un colpetto lo potete fare porca misera ragazzi ok quello l'abbiamo buttato giù vai forse ce la facciamo il problema è che non c'ho niente di qua ok vai grande in due in due in due vai forza che ce la facciamo quella è persa quindi è inutile che ci applichiamo quella è persa quindi direi di non sprecarci proprio tempo vai ok anche quella potrebbe essere andata lasciamo perdere quella torre lasciamo perdere quella torre non fa niente dai metto la vediamo di là e vediamo di difenderci guarda lì guarda lì ok quella è andata dai che ce la facciamo dai ok dai forse ce la facciamo ah non no eh no 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 non mi fa perdere questo non mi fa perdere questo ma porca misera lo sapevo dai dai che ce la facciamo vai adesso dobbiamo buttare già questi vai ok dai che ce la facciamo e andiamo due perse due vinte vi dico la verità grande grazie sembrava naturalmente spacciata come partita però invece siamo andati abbastanza bene infatti avevo visto che quella era persa e la dovevamo abbandonare però poi ci siamo ripresi ma con calma vabbè ci andiamo a fare un'altra partita e vediamo se riusciamo cavolo ok veleno il barile ma proviamo con questo barile vediamo un po' stanno andando un poco troppo leggeri eh andiamo con gli arcieri aia porca miseria non abbiamo nessuno di grosso dobbiamo sperare che le carte che ci arriveranno almeno ci esce un gigante o qualcuno di forte perché sennò davanti non posso praticamente mettere niente vabbè lui comunque ha il gigante royale e noi eh vabbè vabbè noi abbiamo anche la mongolfira vabbè dai non fa niente direi di partire da dietro vai ok e proviamo da qui ok vediamo se ce la facciamo ma manco per niente vai ok vabbè ci siamo difesi abbastanza bene pensavo peggio invece ci siamo difesi abbastanza bene magari se fossimo riusciti a portare un po' più sotto sta cavolo di cosa sarebbe che peccato che è morta proprio là sta mongolfira ok però ce la dovremo fare a buttare giù a questi aspetta ho sbagliato là non avevo visto bene forza 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 arrivate sotto l'unica cosa che mi preoccupa è che non ci abbiamo niente di grosso quindi ocio e attenzione grande bellissimo ok fantastico ok provate a metterne un'altra là ammazza ok dovrei mettere ecco io lo sapevo che quando ci mettevamo la scintilla là poi restavamo fregati e la abbiamo perso anche l'altra tour dall'altra parte aiaiaiaiai no non ce la facciamo da qua eravamo partiti benino però poi dopo niente non abbiamo recuperato il problema è che non c'ho praticamente niente per attaccare vediamo se ce la facciamo un po' ma no abbiamo troppo poco qua troppo poco mamma mia ci sta sta cavolo di cosa che sta da 20 minuti là sotto eh no ahio per poco abbiamo perso porca miseria stava quella mongolfia da 20 minuti vabbè diciamo che tutto sommato qualche partita l'abbiamo persa qualche partita l'abbiamo vinta apriamoci sul bau e speriamo che almeno ci esce qualche oro pipistrelli mini pecca vabbè non è che sia andata molto bene anche per ciò che riguarda l'apertura del forziere ok ragazzi naturalmente che vi faccio il video possiamo mettere un piaccio su un commento che vi piace soprattutto per ciò che riguarda i commenti e i consigli perché mi state dando molto molto aiuto noi ci vediamo nel prossimo video e bye bye